Un altro problema che poniamo lo poniamo attraverso il prossimo relatore che è Mario Tedeschi Nidalli che qualcuno di voi forse ha visto anche ieri perché era presente in un altro nostro panel e che non si è limitato a porre il problema ma ha provato anche a risolvere il problema improprio non per benefici o per benefit professionali o anche economici ma l'ha fatto esclusivamente per utilizzare dei soldi che gli sono stati dati guarda caso proprio da Google attraverso dei fondi che Google ha messo a disposizione dei progetti innovativi sul giornalismo che si chiamano Google DNI di cui abbiamo parlato anche ieri e che sono un bel po' di soldi che sono stati spesi sono 150 milioni di euro stanziati per appunto finanziare il giornalismo europeo di ricerca nel settore digitale però da Google insomma e quindi un paio di domande magari su questo sarebbe anche carino farcele ieri abbiamo provato a farcele. Mario insieme a un altro collega di cui ci parlerà diffusamente ha messo a punto questo toolkit che appunto è un modo per, un sistema per affrontare una serie di problematiche che si chiama appunto giornalismo offshore e lui ce ne parlerà adesso. Buongiorno e grazie, voi mi scuserete ci stanno queste slide che lascio qui e sono sul desktop e comunque ne ha Marco Copia all'organizzazione e che poi potrete se vorrete pubblicarle e quindi potrete tornare su questi appunti ragionati che ho e ci sono dei link che sono utilizzabili per andare ad approfondire. Io mi riattacco a ciò esattamente al tema che affrontava Alberto con gli amici di Ossigeno per l'informazione. Allora il giorno 26 settembre ultimo scorso una testata di informazione locale abruzzese che si chiamava, si chiama, si chiamava non saprei come dire prima da noi.it ha chiuso i battenti dopo 13 anni di lavoro. Tra le altre cose massacrata di cause di ogni tipo, molte di querele e molte anche purtroppo per loro e per tutti noi, cause letteralmente inventate, quando si diceva di jure condendo, qui hanno creato un diritto che non esiste sul cosiddetto diritto all'obbligo, con casi che sono arrivati da Chieti dove è situata questa piccola redazione fino a Londra negli Stati Uniti, per una serie di questioni. Alessandro Biancardi che è stato l'editore, il direttore, ha scritto recentemente a proposito delle cause, dico se sei giornalista puoi anche vincere dalla causa, anzi come ci ha detto Alberto poco fa, nella stragrande maggioranza dei casi si vince la causa, ma in realtà la perdi sempre, perché la salute che hai perso non te la restituisce nessuno, lo stress accumulato aumenta, i soldi per i processi si cacciano lo stesso. Allora, perché vi parlo di Prima da Noi? Non solo perché naturalmente Alberto ha parlato esattamente di questo problema, ma perché il caso di Prima da Noi è stato quello che ha fatto nascere la scintilla di questo progetto. Io lo divido più o meno in tre parti questa presentazione, cominciamo prima a raccontare come è nato, poi che cosa abbiamo fatto e poi che cosa succede adesso. Allora, succede che nel giugno del 2016 la Corte di Cassazione, vi faccio di una storia molto lunga, una storia breve, trovate tutto quanto sul rapporto che poi trovate linkato alla fine, condanna in via definitiva l'attestata Prima da Noi.it per aver con eccessivo ritardo cancellato una notizia che gli era stata ordinata di cancellare dal Tribunale di Chieti perché ormai, aperte virgolette, no non apriamo le virgolette, ma lo dico io con le mie parole, era scaduta. Letteralmente la giurisprudenza italiana ha stabilito che le notizie possono avere una scadenza. E badate, stiamo parlando, sono due casi in particolare, di casi nelle quali le notizie sono notizie confermate, di cronaca nera, provenienti da organi di polizia, che il sito ha aggiornato regolarmente con i nuovi sviluppi sulla stessa pagina con la stessa indirizzo URL, una cosa che purtroppo nessun altro fa. E ciò nonostante, sono stati condannati per il ritardo con cui, dopo aver battagliato per due anni e mezzo, alla fine hanno cancellato anche la seconda notizia e è stata pignorata l'automobile, il direttore, eccetera, eccetera. Allora, di fronte a questo caso un po' molto particolare, in cui appunto la Suprema Corte italiana decide che le notizie hanno una scadenza, io scrissi un blog, un posto sul mio blog, e un collega francese disse, ma perché non facciamo qualche cosa? Ma il punto è che al di là della questione del diritto all'oblio, c'è in realtà in tutta Europa, e in Italia in primo luogo, e le cose di cui ha parlato Alberto prima ne sono una parte, una crescente voglia di controllo di ciò che i giornalisti, e non soltanto i giornalisti scrivono, perché come giustamente ricordava Alberto, l'articolo 21 della Costituzione non riguarda i giornalisti, riguarda ogni singolo cittadino. Il punto vero è che a cosa si attacca il politico, il magistrato, comunque la persona interessata a limitare la libertà di espressione? Si attacca al fatto che nel mondo digitale, per l'appunto, quello che pubblichiamo oggi non vale solo per l'oggi, come funziona per la televisione, come funziona per i quotidiani di carta, eccetera, vale ovviamente anche per il futuro. In questo spazio di novità si inserisce anche la questione del diritto all'oblio. Io, noi sosteniamo, e poi dopo ne riparleremo, che nel mutato universo digitale la libertà di stampa è la libertà di stampa, è la libertà di informare in tutto l'universo digitale. Se l'universo digitale scavalca i confini tra presente e futuro, la libertà di stampa deve valere anche per il futuro e non soltanto per il presente. Con questi problemi nascono problemi archivistici. Io sono anche uno storico, faccio le mie ricerche, che cosa succederà quando a novembre prossimo l'intero archivio di prima da noi.it scomparirà perché non hanno più i soldi per pagare i server, che 13 anni di storia dell'Abruzzo finiranno, o che se qualcuno vorrà fare una storia della giurisprudenza italiana sulla libertà di informazione, non avrà più un modo di vedere gli originali delle cose di cui stiamo parlando. Mentre andiamo in qualunque biblioteca, la Biblioteca Nazionale di Firenze, c'è un'omeroteca che fa paura e troviamo i giornali del 1888. Allora, di fronte a questa crescente richiesta di controllo, che sia per diffamazione, che sia per qualunque ragione, io mi sono chiesto molti anni fa, ma se le stesse cose che scrivo io, identiche, uguali, spiccicate, le scrivesse il mio collega, in questo momento credo sia Horowitz, che è il corrispondente di New York Times da Roma, per il suo giornale. Cosa gli succederebbe a lui? Il Tribunale di Chieti o il Tribunale di Roma ordinerebbe a New York Times di cancellare i contenuti che hanno scritto? Diciamo che quantomeno la cosa si complicherebbe, anche se, scusatemi, mi sa che ho preso quello, va bene lo stesso. Il punto è che evidentemente il New York Times vive in una giurisdizione, almeno in gran parte in una giurisdizione, diversa da quella mia, in una giurisdizione più liberale. Allora ci siamo chiesti, ma se i big dell'economia vanno offshore per minimizzare il loro contributo fiscale, perché noi non cerchiamo di andare offshore, cioè in una giurisdizione più favorevole, per massimizzare la libertà di espressione? C'è un caso molto concreto, è un esempio molto concreto. Il caso Snowden, l'analista della CIA che ha rivelato tutti gli schemi di controllo globale delle informazioni da parte dell'NSA e di altri servizi di informazione collegati, i materiali arrivarono al Guardian, il giornale britannico. Il giornale britannico, il Guardian, è sottoposto alla giurisdizione inglese che è ferocissima, infatti, di querelle, di sicurezza nazionale, molto più feroce anche di quella nostra. E allora cosa fa l'allora direttore del Guardian, Alan Rosbridger? Chiama il collega direttore del New York Times e gli dice io qua ho una pennetta con una serie di documenti piuttosto interessanti, facciamo l'inchiesta insieme perché io ho la pennetta dei dati e voi avete il primo avventamento della costruzione degli Stati Uniti che vi protegge e protegge quindi di rimbalzo a noi stessi. E quindi fecero l'inchiesta insieme. Altri esempi di questi generi li troverete nel nostro rapporto. E da qui che nasce l'iniziativa dell'Offshore Journalism Toolkit fatta da due giornalisti, il sottoscritto è Nicola Kaiserbril che è un collega francese residente a Berlino, anzi adesso anche, credo, cittadino tedesco. Io avevo scritto questa cosa nel giugno del 2016 sull'onda dell'incredulità per la sentenza della Corte di Cassazione su Prima da Noi e lui, l'essere, dice ma perché non presentiamo un progetto? E io dissi, insomma, dobbiamo andare offshore, eccetera, eccetera. Facciamo un progetto e presentiamolo a Google. Era la fine di giugno, il bando scadeva tipo il 4 e il 5 luglio e io disse, ma stiamo scherzando che cosa? Ma no, ma intanto mica vinciamo. Serve intanto per fare un po' di casino e agitare le acque. Nel giro di quattro giorni abbiamo fatto la domanda. Poi abbiamo agitato le acque. Quando è stata la fine d'agosto, Google ci ha convocato per l'intervista per il colloquio di persone, no, di persone, di colloquio via Skype a ottobre e poi ci hanno finanziato. Da questo è nato un... Sì, questa mi dispiace, alla fine ho cancellato quella giusta. Insomma, mancano un po' di date. Nel 2017 è uscito un primo rapporto. Nel 2018 è uscito la cosa di cui adesso vi illustrerò con il rapporto finale. Di cosa stiamo parlando? Allora, abbiamo un primo problema. Va bene, diciamo che io ho un contenuto che penso che sia a rischio oppure che un giudice mi ordina di cancellare e invece lo do a New York Times o lo metto su un server in Islanda. E come ce l'ho messo su un server in Islanda? Il giudice, mica è cretino, il giudice mi dice signore, come ce l'hai messo? Ritoglilo. Perché il problema non è di dove sta fisicamente il server. Il problema è se tu pubblichi qualche cosa che io dico che non devi pubblicare. Allora c'è un problema diciamo di salvare gli articoli potenzialmente a rischio prima che un'autorità possa costringermi a cancellarli. La possibile soluzione che ci è venuta in mente è quella di immaginare, di creare un sistema di salvataggio in mare, se volete. Search and rescue. Cosa succede nel mare? O cosa dovrebbe succedere nel mare? Succede che se una barca sta affondando manda un SOS manda un segnale di pericolo e allora se c'è una nave che passa va e raccoglie i naufraghi o comunque ci sono delle garde costiere ci sono tutte le organizzazioni deputate a cogliere questi segnali e a mandare le motovedette a salvare i naufraghi. Allora la domanda è è possibile immaginare un search and rescue system un sistema di salvataggio in mare per i materiali giornalistici pubblicati legalmente che però ciò nonostante rischiano di essere cancellati dalla memoria del web e quindi dalla memoria dell'umanità. L'idea è stata di prima di tutto dobbiamo stabilire qual è il segnale il segnale di l'SOS. Allora ieri ne avevamo un pochino accennato se io dico metadati qualcuno ha dei problemi? Sappiamo di cosa parliamo quando parliamo di metadati? Senza vado avanti benissimo allora ogni dato quindi ogni articolo per dire in un database ogni fotografia ha anche dei metadati cioè dei dati che definiscono e specificano di che cosa quel dato tratta. la nostra idea è di creare un metadato che lanci il segnale di l'SOS che dice questo articolo è a rischio di essere cancellato e poi quindi di creare un software che come fanno Google e altre cioè spazzola la rete periodicamente vede dove ci stanno questi segnali di l'SOS e copia quel contenuto perché viene autorizzato dalla redazione dell'editore stesso che ha messo quel tag sull'articolo e se lo copia sul server dopodiché a certe condizioni adesso lo vediamo è autorizzato a pubblicarlo altrove per esempio su uno dei grandi archivi di conservazione del web come archive.org archive.is che è quello islandese il wayback machine dell'internet archive e così via di che stiamo parlando stiamo parlando di tre righette di codice che è facilissimo infilare in in qualunque in qualunque scusate però io mi date due secondi perché ho la sensazione che io devo averne un altro di se no alla fine vi ho copiato non è molto diverso ma è semplicemente un po' più aggiornato quest'altro scusate presentazione no è rimasto mi sono sbagliato io prima va bene non ha importanza e allora prima di tutto dice un tag che si può inserire su un singolo articolo su un'intera sezione di un sito o su un feed che quindi per esempio legato a un tag del sito stesso in cui dice che attualmente che l'articolo può essere copiato o gli articoli possono essere copiati un altro comando può dire può essere copiato e poi pubblicato a una certa data oppure per esempio potete tenerlo e pubblicarlo quando al prossimo passaggio del crawler scoprite che la pagina non c'è più c'è il classico error 404 e questo è diciamo la riga di codice che compare fisicamente nella pagina HTML dell'articolo in questione proprio è una idiozia di una semplicità unica e i siti che siano interessati a diciamo a mettere queste bandierine di OSS lo possono mettere come abbiamo detto sui singoli articoli su alcune sezioni su un feed di twitter su tutto il sito il crawler visita il sito più volte periodicamente noi nel nostro sperimento l'abbiamo fatto girare due volte al giorno ma insomma è una questione di decisioni e appunto salva il in loco e poi pubblica secondo le istruzioni contenute nel tag stesso date dall'editore ne abbiamo fatto una sperimentazione in parte con l'espresso proprio con il sito dell'espresso con prima da noi .it naturalmente che erano quelli che ci hanno più ci hanno stimolato a fare questa cosa e poi nessun altro è stato in realtà disponibile attenzione vi dico nessun altro non in italia questo era un progetto europeo e se posso dire gli amici dell'espresso ci hanno molto aiutato ma credo che abbia influito il fatto che io abbia lavorato 24 anni in quel gruppo editoriale quindi non saprei cosa sarebbe accaduto se così non fosse stato questo è un progetto mio personale non ha nulla a che vedere ero già in pensione sono andato in pensione nell'agosto del 2016 comunque abbiamo fatto la sperimentazione il clore girava indicizzava copiava pubblica e dal 2018 il software del crawler è a disposizione di chi lo vuole installare è su github uno lo scarica volete fare voi i samaritani che vanno a raccogliere gli articoli a rischio potete farlo perché tutto quanto è open source non c'è nulla di proprietario naturalmente il problema qual è? il problema è che voi potete farla questa cosa potete fare i samaritani il punto è che se non c'è un comun sentire delle redazioni e degli editori a livello internazionale per cui poi questi tag vengono utilizzati non c'è niente da fare non so se mi spiego in realtà più un discorso il discorso tecnico è facilissimo è più un discorso politico da fare su queste cose e chi scarica poi il crawler vi faccio vedere alcune schermate è un'interfaccia di un'idiozia unica questo è il login poi c'è una dashboard con le fonti che vengono tenute sotto controllo gli articoli che sono stati salvati eccetera e si possono sfogliare e questo è un interessante che si vede che ho un partner francese perché il contenuto fasullo che vedete qui davanti archiviato nell'archivio islandese ha a che vedere con il re della Quiche Lorraine diciamo che non è un contenuto particolarmente a rischio di essere cancellato che è successo poi praticamente niente cioè come vi accennavo editori e redazioni si sono sostanzialmente disinteressate dovremmo discuterne perché al di là di questo strumento a noi non lo amiamo molto perché è elegante ed è semplice non è complicato il punto è se riconosciamo prima se riconosciamo l'esistenza del problema la mia sensazione è che per esempio in Italia ma anche vi assicuro anche nel resto d'Europa questa preoccupazione per la salvaguardia degli archivi digitali non sia percepita non mi sembra posso sbagliarmi anzi sarei ben felice che qualche collega mi smentisse non mi sembra che l'ordine dei giornalisti abbia mai neppure affrontato una discussione di questo genere non per stabilire delle regole che poi se no ti metto in galera ti denuncio a consiglio di disciplina per parlare delle cose e dei problemi che abbiamo e delle opportunità che ci si pongono tanto meno ma forse istituzionalmente non gli aspettava il nostro sindacato c'è stata perlomeno era stata convocata la settimana scorsa in FIEG alla federazione degli elettori una prima rinone io non ho conosciute altre in cui dice ma forse dobbiamo cominciare a discutere cosa fare quando un giudice o peggio un avvocato perché arrivano fiocco hanno decine di file di avvocati cancella questo cancella quell'altro che dobbiamo fare a parte il fatto che la mia scelta sarebbe prima di tutto niente e poi casomai discutiamo ecco il punto vero che questo non è avvertito come un problema perché evidentemente ancora il grosso dei giornalisti e degli editori pensa ancora alla propria missione che sia editoriale imprenditoriale che sia giornalistico redazionale ancora anche usando gli strumenti digitali ancora in termini analogici spieghiamoci meglio che cos'è la libertà di stampa la libertà di stampa è la libertà di pubblicare informazioni naturalmente nel 1948 quando l'assemblea costituente come ci ha ricordato Alberto prima ha codificato nella legge sulla stampa la libertà di stampa la possibilità di pubblicare un'informazione era solo di stampare qualche cosa cioè un settimanale un quotidiano un giornale murale che infatti ci stanno tutte le regole che riguardano i giornali murali sulla legge sulla stampa caso mai qualcuno pensasse che invece lì è libero di fare come vuole però di stampa tant'è che poi nella giustizia successiva si è discusso perché allora stampa cos'è è un processo meccanico chimico meccanico per imprimere su un foglio di carta eccetera perché per esempio la radio prima e la televisione poi non erano di per sé giuridicamente comprese nel concetto di stampa tant'è che ci sono si è seguita poi una legge ad hoc per dire allora anche ai telegiornali si applica la legge sulla stampa e allora il punto è che fino a ieri fino a ieri fino diciamo a vent'anni fa anche se la grande maggioranza dei colleghi pensa che sia ancora oggi noi ogni volta che pubblicavamo o pubblichiamo un articolo o trasmettiamo un servizio televisivo o radiofonico facciamo una fotografia di un momento T preciso questo è tutto ciò che ho potuto sapere e che io ritengo rilevante su una certa cosa in questo momento domani quello che dura di più è il quotidiano o se vuoi il settimanale il mensile ma insomma infatti poi nel mensile non trovi le notizie trovi altro genere di informazioni anche importanti ma non notizie in senso stretto il vecchio detto con il giornale il giorno dopo ci si incarta il pesce in tutte le lingue c'è questo detto sono 25 anni che non è più vero non è più vero a parte che incartare il pesce con i giornali anche oggi non è proprio molto sano e il ministro della ministra della salute avrebbe qualche cosa da ridire ma proprio non è più vero vuol dire che ogni volta che noi pubblichiamo in realtà noi non pubblichiamo facciamo certo una fotografia dell'ora dell'adesso del momento T in cui spingiamo il tasto go invio publish ma in realtà quel materiale produce effetti non solo nel momento T ma in un momento T più N perché nel futuro noi lanciamo un elemento di informazione nel futuro quindi nell'idea della corte di cassazione italiana della magistratura italiana perché è quella che in questo momento ha fatto giurisprudenza c'è che la libertà di stampa è definita dall'utilità nel tempo definito della pubblicazione dopo un tot e là poi ci sta un po' di il giudice di Chieti diceva sei mesi loro dicono due anni ma insomma non è quanto dopo un tot perde di attualità ma che vai cercando guardate che uno dei casi abbiamo qualche minuto uno dei casi più clamorosi di prima da noi è stato che ed è la ragione per cui poi sono stati condannati per aver cancellato troppo tardi è stato che c'era stata una rissa con un accoltellamento in un ristorante su lungomare di Pescara la polizia arriva la polizia ferma questo arresta quell'altro dei processi non so processi eccetera eccetera di una famiglia che si litigava famiglia del proprietario e altri familiari dopo un po' di tempo il proprietario fa scrivere dall'avvocato al giornale dicendo in nome del signor XY e in nome personalmente e in quanto legale rappresentante della ditta ristorante pesce buono non so come si chiamasse di fido cancellate perché questo reca danno al ristorante non reca danno al ristorante il fatto che ci sia stata una rissa in quel ristorante è stata convocata la polizia c'è stata una conferenza stampa e c'era attenzione c'era un processo in atto cioè ancora legittimamente il giornalista poteva riferire di ciò che stava accadendo in quel processo che riguardava quella rissa e tuttavia l'avvocato manda la richiesta loro rifiutano chiedono un parere all'autorità garante della riserva dei dati personali che dà ragione al giornale dicendo al massimo toglietelo dall'indicizzazione di google ma certo non cancellate niente non si accontentano vanno dal giudice e il giudice dice basta dopo un po' che cosa serve finito dice ma l'archivio stampatevene una cosa e mettetelo in un cassetto è stato detto non sto inventando non è un perché capisco l'archivio come l'archivio dei giornali sono delle belle cose rilegate voi rilegatevi gli articoli e mettete in un cassetto così il domani lo storico può andare a vedere la vostra il vostro articolo che adesso abbiamo tolto dal web allora di fronte a questa cosa io insomma io l'ho teorizzata ma spero di non essere solo così se l'universo digitale cambia radicalmente il nostro modo di fare giornalismo nel senso che ci offre maggiori opportunità per esempio ci offre l'opportunità di informare nel futuro è evidente che la razio liberale dell'articolo 10 della convenzione europea dei diritti umani dell'articolo 21 della costituzione della repubblica italiana del primo avventamento della costituzione degli stati uniti e via 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 così è quello di dire che noi se facciamo i giornalisti o se siamo semplicemente dei cittadini che vogliono fare informazione anche se non facciamo giornalismo bene siamo liberi di farla mica adesso siamo liberi di farla e se oggi possiamo farla anche per il futuro beh questa è una possibilità che dobbiamo prima riconoscere cosa che non riconosciamo ancora perché poi ci sono gli strumenti per farla questa informazione che riguarda il futuro di nuovo con i metadati e poi rivendicarla e rivendicarne il diritto questo è il grande dibattito che manca e manca in primo luogo perché secondo me nelle redazioni e nelle aziende di teoria italiane manca una percezione reale di cosa sia e di quali siano le potenze trasformative in senso positivo ma anche negativo che il mondo digitale ci offre noi dobbiamo affermare che la libertà di stampa nell'ambiente digitale comprende la libertà di pubblicare per il futuro e che limitarlo e impedirla mette semplicemente a rischio la libertà di espressione naturalmente non siamo mica scemi perlomeno spero che non siamo abbastanza scemi perché con ogni nuova possibilità con ogni nuova libertà vengono di conseguenza nuove responsabilità perché così come ci spiegava a proposito della diffamazione in senso classico Alberto prima ciò che noi pubblichiamo può recare danno a qualcuno oggi e gli reca danno anche se è vero gli reca danno anche se è rilevante ai fini sociali un politico che è condannato per aver sottratto soldi al ministero dico per dire quello però certo che un danno glielo fa non solo gli fa un danno a lui fa un danno per esempio alla sua famiglia che magari non c'entra niente fa un danno cioè noi ogni volta che scriviamo qualche cosa creiamo delle conseguenze sociali alcune da noi volute se un ministro è un imbroglione scopriamo che un imbroglione lo scriviamo e speriamo che non sia più un ministro però insieme a questo c'è un'onda di conseguenze che non sempre siamo in grado di controllare anzi mai siamo in grado di controllare l'unico modo che possiamo controllare è quello dei famosi principi della sentenza della corte di cassazione citata dell'84 di Alberto prima cioè cercare di scrivere in una certa maniera le cose essenziali non le cose inessenziali con come dice continenza adesso non mi ricordo più come è esattamente la parola con un linguaggio adeguato e così via allora quali sono le nostre responsabilità se vogliamo essere liberi di pubblicare per il futuro cioè noi comunque pubblichiamo per il futuro se vogliamo rivendicare la libertà di farlo senza che un giudice dica no cancella perché come lo yogurt dopo sei mesi la notizia scade come sostiene in due diverse sentenze il tribunale di Chieti e dobbiamo cominciare a discuterne riconoscere e riconoscere quali sono le conseguenze per le redazioni per gli editori per esempio è da lungo tempo che manca un discorso sulla politica delle correzioni attenzione la famosa maledetta legge del 48 c'è un articolo sul il diritto di rettifica quello c'è siamo qui abbastanza tutti adulti e vaccinati da sapere che il diritto di rettifica è scritto su quella carta il diritto di rettifica per il grosso per il 99% sui casi dei casi dal 48 ad oggi non è mai stato sostanzialmente applicato come scritto su quella legge anche perché era inapplicabile il problema non è il diritto di rettifica il problema è il dovere della correttezza ci sarà il diritto dell'utente ci sarà il diritto dell'oggetto della cronaca a far valere i propri diritti ma vediamo quali sono i nostri doveri i nostri doveri che sono nei confronti del lettore non sono nei confronti necessariamente dell'oggetto della cronaca noi dobbiamo dire al lettore le cose come stanno dovremmo dire la famosa verità sostanziale dei fatti allora se a un certo punto ci accorgiamo che in ciò che abbiamo scritto io continuo a dire scritto ma così ci capiamo perché non è soltanto questione di scrittura e di testi se in ciò che abbiamo scritto siamo in corso in un errore cosa dobbiamo fare allora io so cosa quando nel 97 cominciai a occuparmi di Repubblica.it nella pre-storia del giornalismo web io ero molto orgoglioso perché dico noi non è che noi correggiamo ma non basta perché noi correggere e basta è un altro modo di fare quello che giudici in maniera più sottile quello che giudici stanno facendo cioè stiamo modificando l'archivio della storia allora quando è e com'è che possiamo dobbiamo farlo perché se abbiamo scritto che Mario Tereschi di Lalli è nato il 27 agosto del 52 e invece come del caso è nato il 27 agosto del 51 bisognerà scrivere che invece è nato nel 51 allora per esempio la soluzione principe che in gran parte del mondo è stata è stata adottata è che la correzione viene fatta in maniera trasparente cioè c'è a un certo punto un luogo nella stessa pagina il quale si dice attenzione quest'articolo è apparso in una versione precedente nel quale Mario Tereschi di Lalli la data di nascita di Mario Tereschi di Lalli era stata data come il 52 è invece il 51 quindi nel testo è scritto 51 ma sotto in corsivo c'è scritto ci siamo sbagliati era invece 52 quindi questo è un pezzo corretto questo è personalmente ciò che io ritengo adesso ci stanno il tempo per le domande ci stanno il modo opportuno ma diciamo che comunque questo è un dibattito da fare oppure sull'aggiornamento gli amici di prima da noi aggiornavano i pezzi sulla stessa url in modo che l'eventuale ricercatore su Google arrivasse su quel pezzo e dice sì è stato arrestato Mario poi però è stato rilasciato perché invece non era responsabile di niente poi di fronte ad una richiesta di cancellazione legittima perché un giudice più legittimo di un giudice chi c'è no? cosa facciamo? di fronte a una richiesta di un avvocato che cosa facciamo? e le testate come prima da noi ma anche un pochino più grande di prima da noi hanno la forza fisica di processare tutto questo lavoro e in base a quali criteri? vabbè ma no ma lui aveva 16 anni ha fatto una fesseria ha venduto un po' di fumo fuori dalla discoteca certo è finito sui giornali ma adesso ha 42 anni è candidato a fare l'amministratore delegato di una municipalizzata di un capoluogo di provincia e vabbè può essere forte questa cosa che la feste di diec è fatta a 16 anni esce fuori cancelliamo questa è la è ciò che normalmente spannometricamente fanno le redazioni che sono decine decine al giorno le grandi redazioni che arrivano di richieste di questo genere allora vogliamo stabilire una procedura vogliamo discutere i criteri quando si accetta quando non si accetta come si accetta vogliamo stabilire che per esempio al limite io non cancello nulla dal database ma delinco tolgo la connessione tra quel pezzo e il motore di ricerca cioè sono tutte questioni che vanno discusse e che mi sembra che siano lontani dall'essere messa all'ordine del giorno bisognerebbe stabilire delle linee guida e pubblicamente affermarle linee guida che possono essere fatte a livello di data testata a livello del singolo blogger non serve che si muova il Parlamento che si muova l'ordine dei giornalisti che tutto quanto poi abbia effetto di legge perché io se sono un giornalista se sono pubblico una cosa giornalistica dico pubblicamente quali sono i criteri che seguo e quindi sono responsabile di fronte ai miei lettori di mantenere fede a quei criteri poi possono anche trasparentemente cambiarli se poi fosse il caso e facciamo un test che direste di una legge perché si è molto parlato di cose di questo genere che vieti la diffusione di fake news che vieti la pubblicazione sui media online nelle reti di informazione e telecomunicazione di notizie non verificate presentate come fatti che dà potere all'autorità di bloccare testate che non rimuovono immediatamente i contenuti giudicati come fake news grossomodo facciamo a chi gli sembra una cosa grossomodo ragionevole a chi sembra una cosa grossomodo irragionevole a chi non è incerto a chi sembra ragionevole alzate di mano a chi sembra irragionevole a chi sembra ma forse si dipende questa è la legge votata pochi giorni fa dalla Duma russa e sono le stesse parole non leggete ve lo leggo io ma insomma sono le parole che vi ho letto prima questa è un'ansa del 7 marzo che dice la Duma ha approvato in terza ed ultima lettura il disegno di legge che vieta la diffusione di fake news su internet la norma prevede il diveto di pubblicazione sui media online e nelle reti di informazione di telecomunicazione di notizie non verificate presentate come fatti e dà il potere alle autorità tramite le autorità per le telecomunicazioni di bloccare le testate che non rimuovono immediatamente i contenuti giudicati come fake news lo riporta Interfax quindi c'è una dopodiché è evidente che le norme in un contesto in un altro possono cambiare però questo è il punto c'è un accrescente appello al controllo dei contenuti e non è solo in Russia che sia per la sicurezza nazionale per la pornografia per la diffamazione la questione della verità versus la falsità il diritto all'oblio mentre in questo momento sono sottomilino fondamentalmente le piattaforme come se le piattaforme fossero il problema unico il punto vero è che i diritti sono indivisibili e i giornalisti non ce lo dimentichiamo hanno un interesse naturale alla libertà di espressione direi un interesse di saccoccia come diciamo noi sul Tevere no? di tutti trovate il nostro sito che avevamo fatto al momento del rapporto preliminare che queste sono le urle semplificate il sito è www.offshorejournalism.com il rapporto preliminare è offshorejournalism report il rapporto finale offshorejournalism report numero 2 il codice lo trovate offshorejournalism crawler che è il regnetto la nave della vedetta che va a salvare i pezzi poi trovate qui due articoli che si sono occupati del nostro progetto offshore could do good for journalism della global editors network e poi il Niemann lab pure the offshorejournalism project would let newsroom send a distress signal when their content is at risk of being lost forever grazie grazie davvero Mario Tedeschini Lalli grazie grazie a questa cosa grazie soprattutto ad averci riportato un'altra volta la barra al centro su questa questione che è fondamentale io te l'ho detto e te lo ridico anche di fronte a un pubblico tutte le volte che vorrei parlarne noi saremo sempre disponibili se ci sono domande naturalmente Mario è qui abbiamo un po' di tempo qualcuno che domanda c'è grazie mille in parte forse hai già risposto in merito appunto ai casi di per esempio inchieste giudiziari e poi relativa condanna oppure invece assoluzione perché forse anche per un po' di feticismo che abbiamo in Italia ma credo un po' in tutto il mondo si indicizza molto di più l'inchiesta piuttosto che poi l'eventuale assoluzione e quindi lei ha già accennato di mettere nello stesso url se non ho capito male però ecco per dare la stessa pari dignità all'inizio e alla fine che poi se la fine è una condanna è peggio per lui ma a maggior ragione se è una soluzione insomma perché l'inchiesta chiaramente fa subito pensare a peggio ne prendiamo due o tre vediamo sì vediamo di raccogliere un po' di domande allora c'è un'altra là intanto vado da lui perché se no alla fine si arrabbia allora ah sì dove è? là qua due cose veloci la prima quando viene tagliato quando viene chiesta la cancellazione e il giornale cancella quindi l'archivio del giornale è cancellato ma non succede spesso che invece Google lo tiene comunque in archivio cioè nell'archivio di Google rimane comunque nella parte dei canali di Google dove c'è scritto archivio o qualcosa del genere e la seconda invece io le ribalto la domanda e le dico se un se la cosa è l'opposto nel senso che qualcuno si sente diffamato da un giornale perché magari è il giornale non magari non ha fatto la causa del giornale ma il giornale ha fatto una richiesta direttiva del giornale che il giornale non ha accolto perché può anche succedere questo e magari appunto nell'online come ha detto lei è da quel giorno lì in avanti cosa fare per questo perché tutta la sua disquisizione è a favore della libertà di stampa però mi sembra anche corretto che se per caso qualcuno si è bevuto il cervello e fisicamente ha diffamato ha detto qualcosa di completamente falso non è nemmeno corretto che ci sia quella come lei diceva il 52 la mia data ma il 51 ma forse era anche giusto dire che quella cosa non esiste proprio quindi mi chiedo cosa fare in quella direzione lì grazie una domanda pratica su questo della rettifica siamo già visti a cata web nel caso della rettifica chi la chiede vuole un pari rilievo questo è di solito quello dal mezzo stampa sul web che vuol dire bisogna cambiare il titolo per esempio la data sbagliata di nascita secondo il criterio vecchio della stampa dovrebbe partire dal titolo sbagliata data di nascita poi invece un'osservazione riguarda le querele a cui ha accennato di fatto prima Spampinato e riguarda per esempio il caso Concita io sono uno di quelli ex unità che ha ricevuto una querela e per vincere ho dovuto sborsare il problema è anche che molti editori ormai sono spariti cioè Spampinato ha detto sono il 10% agli editori che coprono io ho collaborazioni ma come tanti e io so che per un articolo che dopo magari prenderò 10 o 20 euro può arrivare una cosa che mi costa 4, 5, 10 mila euro vincere perché ho vinta una da 4 mila euro ma è costata ma è normale cioè anche vincere una causa appunto come ha detto costa migliaia di euro per un articolo di 5, 10 euro che questo è quanto viene pagato e questa è la condizione appunto la condizione della maggioranza oggi dei giornalisti sono gli editori perché gli editori la maggioranza degli editori oggi te sai che non c'è a noi all'unità successa addirittura che l'editore disse signori tanti saluti nel caso di concita è assolutamente vergognoso perché lei ha un centinaia di causa per danni inenarrabili assurdi anche per cose semplicemente per il discorso della responsabilità che il direttore deve rispondere di tutto ed è una situazione dire assurda è dire poco però lei non è l'unica perché le persone aver relate fumo 26-27 circa il suo è un caso stratosferico pazzesco allora intanto rispondo non ci abbiamo nessun altro ok allora intanto mi attacco perché per me è più facile all'ultima cosa naturalmente hai perfettamente ragione però diciamo esolo un attimo dal focus su cui io cioè il problema delle querele delle querele temerarie del peso delle querele sulla vita dei singoli giornalisti la tua o quella di concita per le dimensioni che quella della storia di concita di Gregorio ha o sulle intere redazioni come nel caso della piccola redazione di cui ti ho parlato che ha letteralmente chiuso non solo ma il cui archivio sta per sparire quindi un pezzo di storia sta per sparire perché questo è un punto è un punto importante e mi rifaccio ad una delle cose che dicevi tu allora al discorso ma tu hai parlato della libertà di stampa dal punto di vista dei giornalisti ma ci stanno pure quelli che sono le vittime della libertà di stampa la butto un po' così va bene forse sarà pure il momento in cui ci sarà qualcuno che dirà no ma quella cosa non esiste proprio virgolette adecuoto cito esattamente la frase che tu hai adoperato allora può pure essere ma due considerazioni il primo è io non sono solo un giornalista sono laureato in storia ho pubblicato dei saggi storici pieni di note pallosissime sto facendo una cosa sui ufficiali tedeschi a Roma durante l'occupazione tedesca e poi negli anni successivi cosa fecero vado frequento gli archivi vado ho avuto un problema con l'archivio dell'unità che adesso siccome nel casino delle varie proprietà no no è riuscito fuori è online ti comunico che è online diciamo tre giorni fa ci stava e allora il punto è che i giornali da sempre oltre a essere a diciamo producono giornalismo ma in realtà producono anche prima producono effetti nel futuro perché creano archivio sono fonti di ricerca storica quindi cancellare qualche cosa non è soltanto che limita la libertà del giornalista che l'ha pubblicata dieci anni fa o due anni fa limita la libertà di conoscenza dell'individuo nel momento che effetto la ricerca e dell'individuo che può essere uno storico per esempio oltre che può essere un cittadino qualunque interessato a quelle robe va bene allora il punto è che noi abbiamo noi proprio tradizionalmente nella cultura italiana l'idea che il diritto possa dirimere in maniera astratta ed assoluta le questioni esistono invece delle tensioni tra i diritti che non tutto può essere normato e legiferato con precisione fin qui lì fin lì no esistono delle tensioni allora io diciamo che l'attenzione a questi problemi nelle redazioni nelle case editrici è così bassa che prima di arrivare al problema di pormi dall'altra parte del problema io intanto affermo questo diritto giustamente c'è chi si sente danneggiato affermerà il suo non so come dire va bene anzi lo stanno affermando lo hanno affermato con la giurisprudenza la giurisprudenza europea per quanto riguarda i link di google col cosiddetto google spain il delincaggio delle notizie eccetera eccetera la corte di cassazione italiana sul caso che vi ho detto cioè stanno avvenendo delle cose non sta avvenendo nulla o quasi nulla dal punto di vista di chi avrebbe l'interesse oltre che morale interesse proprio personale ad affermare la libertà di affermazione per il futuro continuo an indietro sempre tu parlavi tu dicevi la cancellazione negli archivi di google di google allora no perché io sappia la cash allora negli archivi profondi di google dio solo sa cosa ci sta cosa non ci sta non te lo dico non lo sappiamo possiamo supporre che ci sia tutto ma non lo sappiamo in quella che noi chiamiamo la cash di google la cash di google dopo un po' si aggiorna cioè se il crawler di google passa sull'uomo di pagine guarda se le copia guarda se sono cambiate se le ricopia quando poi dopo non le trova più dopo un po' c'è una latenza di qualche mese ma nel giro di qualche mese non le trovi più quelle robe lì l'editore può fare e fa di avvertire google quando ci sta un caso particolarmente clamoroso e google di solito specie dell'editore ha un certo peso diciamo accelera questa questa scomparsa ma direi che di nuovo non mi sembra un problema in questo momento un problema centrale se posso aggiungere la questione di google è doppiamente importante perché comunque pensate alla deindicizzazione cioè la deindicizzazione è una richiesta che noi facciamo a google di non indicizzare più nella ricerca e quindi nell'istato non far uscire più la notizia da una parte la notizia rimane non si sa dove e quindi già quello già l'oggetto che ci ha raccontato Mario potrebbe in qualche modo farcela ritrovare anche se viene deindicizzata ma la cosa più importante è che noi chiediamo a google di deindicizzare la notizia cioè non lo chiediamo alla corte suprema non lo chiediamo a uno stato sovrano cioè lo chiediamo a google cioè questo aspetto qui non deve passare in sottotraccia eh ma non c'è problema ma google non può avere potere decisionale diciamo in un'altra maniera la giurisprudenza europea e in gran parte ormai anche la giurisprudenza nazionale ci sono dei casi in Romania abbastanza clamorosi sta affidando progressivamente e l'articolo 13 della direttiva sul copyright in discussione in questo momento in Europa ne è un caso classico affida alle piattaforme digitali potestà giurisdizionale potestà giurisdizionale è così quando dici che loro che vuol dire vuol dire che tu pubblichi una cosa su youtube qualcuno sospetta o google stessa sospetta che quello che tu pubblichi ci sia magari 30 secondi o 5 secondi di un video di cui tu non hai diritto potrebbe essere portata in tribunale per violazione del copyright della cosa che hai messo su per tu se c'è un dubbio siccome quella è una società che ha come scopo emissioni e profitto la massimizzazione del profitto è quotata in borsa eccetera nel dubbio che fa? cancella il tuo video ma fa bene fa bene perché la sua mission non è quella di controllare che cosa tu metti sul video allora la tua libertà di espressione come cittadino intendo non necessariamente come giornalista è sottoposta al vaglio di società private for profit peraltro pure di diritto non europeo allora questo è il punto che si rifaceva Marco però io devo ancora una risposta al collega che ha fatto la domanda per prima a proposito delle inchieste di come in una vicenda giudiziaria diciamo così le notizie si modificano perché le informazioni si accumulano e perché non solo si accumulano se ne sa di più ma proprio perché ciò che è in un momento tipo che io vengo arrestato poi se vengo assolto evidentemente sono due elementi informativi molto importanti allora io non credo che ci sia un solo modo per rispondere a questa esigenza è certo che c'è un'esigenza cioè c'è un'esigenza che ripeto è nostra prima che della potenziale vittima cioè se la nostra missione è di informare i lettori i cittadini dobbiamo informarli a tutto tondo altrimenti non facciamo il nostro mestiere lo so bene come funziona anche sui giornali che è grande grande l'arresto piccolo piccolo la soluzione ma questo fanno parte della patologia del giornalismo lo sappiamo perché ce lo diciamo in tutti i convegni poi andiamo nei giornali e facciamo differentemente ma siccome nel mondo digitale abbiamo questa dimensione temporale diversa dobbiamo cominciare a interrogarci secondo me la tua domanda è una domanda legittima che non ha una risposta univoca che bisognerebbe cominciare a discutere ripeto dovrebbero discuterne intanto le redazioni perché non serve che ci sia l'ordine giornalistica e la legge a tutti quanti io sono il direttore meglio ancora il direttore e l'editore le due cose insieme perché in realtà è una cosa che riguarda ovviamente pure l'editore perché cancellare una notizia è eliminare una parte del capitale fisso se volete degli asset ecco degli asset dell'editore e stabilire insieme che cosa come quando e stabilire delle linee guida per gli aggiornamenti in certi casi si possono fare è il caso di farli sulla stessa pagina in certi casi è materialmente impossibile perché specialmente se è una storia molto lunga non è non è possibile allora però una cosa che si può fare è mettere una nota all'inizio del primo articolo sull'arresto per dire per dire questo io non lo modifico perché non è che questo nel 1999 questo è stato in effetti arrestato quindi non posso modificare la storia va bene però avverto attenzione che ci sono stati negli anni successivi una vicenda e si può dire è stato poi assolto però clicca qui e quel clicca qui può portare o al pezzo finale in cui lui è stato assolto oppure se è una storia molto lunga a per esempio al feed RSS del tag con cui abbiamo identificato quella storia e qui entro un momento nel discorso che ho accennato solo come titolo cioè come si fa a pubblicare per il futuro come si fa si fa cominciando a immaginare un'architettura dell'informazione che sia proiettata nel futuro che per esempio se io capisco oggi mi arrestano e poi magari una fesseria però invece questa è una cosa che cresce io a un certo punto quando l'ho vista cresciuta posso decidere questo è il caso Mario creo un tag caso Mario riattribuisco il tag caso Mario a tutti i precedenti e quindi l'intera storia diacronicamente definita viene ritrovata tutto insieme i precedenti le cose in mezzo e le e le conclusioni questo è un modo semplice di immaginare di immaginare il pubblicare per il futuro un altro esempio quello che fa sempre il nostro amico Federico Bataloni e il tipo di esempio vi dice da quanti anni è che uno va predicando certe cose inutilmente Federico raccontava dice fate conto stiamo parlando del processo rubi e se io metto un tag e lo identifico come gossip oppure se metto un tag come prostituzione giovanile il pezzo che io oggi faccio sul sul processo rubi nel futuro sarà si aggregherà insieme ad altri pezzi con il tag prostituzione minorile o con il tag gossip sono due legittime letture di quella vicenda tant'è che ci sono state quelle due letture sulla stampa italiana ma è evidente che se io leggo quella cosa come gossip oppure burlesque evidentemente do a quell'item informativo una valenza informativa nel futuro indirizzata in un certo senso se gli do il tag prostituzione giovanile lo associerò a ciò che verrà scritto raccontato sulla prostituzione giovanile negli anni seguenti quando nel lontano 2007 cercavamo di spiegare queste cose ad alcuni importanti colleghi di un'importante redazione nazionale avevano un problema a capire cos'era un tag e a un certo punto una persona a cui voglio anche sono molto affezionato dice ah ho capito ma questo è un lavoro d'archivista è un lavoro d'archivista nel mondo in cui tu scrivi per oggi e poi il giornale viene rilegato da qualcuno messo un archivio ritagliato in una bustina in cui sopra l'archivista in effetti scrive gossip oppure una situazione giovanile o caso rubi e mentre è evidente che scegliere 4 o 5 parole che sintetizzino il il senso del pezzo che facciamo io lo chiamo titolare e da quando la giurisprudenza del lavoro sul giornalismo e la giurisprudenza del lavoro sul giornalismo chi fa un titolo anche se non ha mai scritto un articolo in vita sua viene subito assunto dall'editore perché il giudice le dice questa è una cosa tipicamente redazionale allora il punto è capire che noi nel mondo digitale abbiamo delle dimensioni completamente impreviste vent'anni fa del nostro giornalismo e dobbiamo sfruttarle ma per sfruttarle dobbiamo comprenderle grazie di nuovo a Mario Teleschini-Lalli aggiungo sinteticamente il fatto della memoria che le cose che ha detto Mario ci evocano ma che non sono state trattate le tratteremo sicuramente in altre sedi perché anche quell'aspetto lì evidentemente è fondamentale cioè poi tutta questa roba dove va a finire cioè c'è il caso in cui e ce l'ha spiegato bene Mario ci sono tutti gli altri casi che non sono casi di cronaca eclatanti cose che sono state eseguite e che però insomma è tutto affidato a dei server e questi server chi li gestisce come funzionano perché quanto reggono quanto reggeranno cioè c'è un mondo enorme che nessuno conosce che nessuno esplora grazie di nuovo facciamo una pausa visto che è un'unica lunga sessione così almeno respiriamo un attimo apriamo un po' cambiamo l'aria e ci rivediamo fra 5 minuti però non state via troppo se no poi non riusciamo a gestire a gestire a gestire a gestire a gestire